Buongiorno squadra, una delle domande più comuni che vengono fatte nel mio gruppo Telegram, su Facebook e alle mie miei membri è Ma è davvero possibile guadagnare online? Non è tutto finto quello che si vede su Instagram, su YouTube, in giro per i web Ogni volta siamo costretti, io e gli altri che sono nel gruppo, a rispondere appunto dicendo Sì, non è la domanda corretta, la domanda corretta infatti non è tanto se si può guadagnare oppure no Ma come si fanno le cose giuste, perché solamente facendo le cose giuste e per bene si guadagna Io lo faccio e per quanto banale l'affermazione che andrò a dire può sembrare Ma se l'ho fatto io lo può fare chiunque, perché non è la vita che non ha avuto nessun vantaggio Forse avevo il computer perché in Italia le cose basi, però non avevo vantaggi nel senso Genito ricchi, cose, lauree, conoscenze e così via, ero una persona normale Però se c'è una cosa che vi ripeto, se si fanno le cose giuste e per bene Seguendo appunto i passaggi, perché per i passaggi non c'è uno step che tutti possono seguire Si può fare, cioè si può guadagnare online, tu puoi creare qualcosa che ti appunto ti permetta di guadagnare online E in questo video andrò a spiegare un pochettino quello che ho imparato in questi anni E quello che appunto ho fatto e quello che appunto potresti fare tu per diventare nella mia stessa situazione Tipo un pochettino l'arroganza, ci ho messo in questa frase Quindi sarà tutto parlato, questo video non ci sono tipo fuochi d'artificio o cose del genere Se lo devo guardare, bene, se non lo devo guardare, a scapito tuo perché sono informazioni top secret che nessuno vi dà Prima di cominciare ti ricordo che in descrizione c'è tutti i vari link Gruppo Telegram, gruppo Facebook, siamo 500, 1000, tutte le parti Se vuoi entrare appunto fare domande riguardo tutto quello che riguarda il business online Noi siamo sempre disponibili 24-7, o almeno si spera La prima cosa più importante di tutto, per quanto banale e poco originale possa sembrare È il fatto della mentalità, del mindset, però ripetuta in questo mondo tantissimo Ed è vero, molto spesso c'è tipo questa mentalità Mentalità da perdente, mentalità vincente E vincente è quello che dice, che non si mette ai limiti Quello che dice, ok, qualsiasi cosa mi metto davanti la posso fare Ed è vero, ok, molto spesso il problema di chi comincia E che vuoi pure io È banalmente che tu magari hai qualcosa davanti Uno store di com e si dice, ah non ce la faccio Non sono abbastanza bravo Eh vabbè, non è che devi dire, sei abbastanza bravo Impara, cioè non è che devi dire, non lo so fare, non lo faccio Perché se lo stai dicendo, stai ammettendo che sei stupido Ok, non penso Perché se sai fare 2 più 2 Praticamente hai la conoscenza necessaria per fare i milioni online Cioè non ti serve altro, ti serve un telefono, un computer La connessione internet Fare 2 più 2 Saper fare 2 più 2 E magari parlare un pochettino in inglese Ma poi c'è Google Traduttore Quindi alla fine basta saper usare Google Traduttore Però ti posso assicurare che molto spesso E questa si chiama Risk Averse Bias È una bias cognitiva che in pratica Tu trovi qualsiasi scusa Tutte le scuse negative in questo mondo E ti poni i limiti da solo Pur di non fare qualcosa Perché appunto hai il rischio di fallire Non c'è nulla di male a fallire Io ho fallito in passato Ma ce l'ho di volte Tantissime volte è normale Anzi più fallisci più bravo diventi Certo non è bello fallire Però si deve fare È qualcosa che tutti facciamo Tutti ci passiamo E per quanto banali Questo speech e motivazione Può sembrare la verità Cioè se tu hai una cosa davanti Non ci pensi due volte Subito impari Non ti poni i limiti Non devi dire Ok non la posso fare La devi fare Ok La stessa cosa io Tu mi prendi Per mettere in Africa Non c'è nulla Io un modo per fare le cose Te lo trovo Ok Non mi pongo nessun limite Nessun problema Nessuna scusa E questa è la cosa più importante di tutto Perché ti posso spiegare Tutte le cose tecniche Come fare i siti web Piattaforme Shopify Però se non ci sono le basi Alla base proprio Non ci sei Tu che sei una persona Che sa fare le cose E ha voglia di fare Non si va da nessuna parte Quindi questa secondo me È la cosa più importante di tutto Seconda cosa Devi diventare estremamente bravo In qualcosa Ok In questo mondo capitalista Le persone ti pagano Perché tu gli dai un servizio Ok E ora ti dirò una frase Che farà incazzare Un pochettino di persone Se tu l'unica cosa che sai fare È pulire i cessi L'unica cosa che potrai fare Come al lavoro È pulire i cessi E pulire i cessi Ha un costo Cioè ti danno una paga Per quello che tu fai E la cosa estremamente importante Da capire È che Tu non puoi prendere Un lavoro da programmatore Se non sai programmare Ok Per quanto scontata Possa essere la verità Quindi non aspettarti Che qualcuno ti paghi 1000 euro 2000 euro al mese Per fare un progetto Di marketing Se non sai fare quelle cose Non sei bravo Non lo sai dimostrare Quindi alla base La prima cosa che devi fare È imparare Può essere tutto Copywriting Design City web Programmazione Marketing Facebook ads Tutto quello che vuoi Social media Tutto quello che vuoi C'è l'infinità di cose Che puoi imparare E per la maggior parte Di queste nuove attività online Quindi quelle che ho elencato prima Non c'è bisogno di una laurea Cioè non devi andare all'università L'unica cosa che conta In questo mondo Non sono nemmeno i certificati È la pratica Cioè se io I clienti che mi contattano Non mi hanno mai chiesto Ah ma tu hai la terza madre O il diploma Oppure tu sei andato all'università L'unica cosa che chiedono è Ok Quello che puoi fare Quanto ti prendi Cosa mi fai Cosa sai fare davvero Nella pratica Cosa mi puoi portare I risultati E soprattutto Che lavori fatti in passato E cosa mi puoi dimostrare Quindi quello che conta L'esperienza Cioè presentarti Dicendo appunto Di so fare questo E guarda quello che ho fatto In passato Di progetti Ma appunto Devi diventare bravo In qualcosa Anzi più cose sai fare Meglio è Perché appunto Il tuo valore Ti individua Nel sistema capitalistico Aumenta Capitalisto Capitalistico Non lo so Aumenta In pratica Io c'ho anche una scheda Che magari un foglio Excel Che compaglia da qua sopra Dove tengo traccia E tutte le cose tecniche Queste sono abilità tecniche Che sto imparando Che sto imparando Imparato Oppure appunto Che sto Che voglio imparare in futuro In pratica Vengo qui E sono tutte le cose Che sto fare Ci ho avuto anni Per imparare tutte queste cose L'ho imparata gratis Simplemente gratuitamente Però Ho tante cose Più cose fare meglio E in pratica Per me ad oggi È impossibile rimanere senza lavoro Perché magari va male YouTube Va male quello che sto facendo ora Con il marketing Perfetto So fare i video So fare le foto Mi metto lì E faccio magari un lavoro Da video maker O video editor Qualcosa del genere E faccio So fare web design Quindi magari non so Va male questa attività Perfetto Vedo qua E faccio web design E qualcosa del genere In pratica Per me è impossibile Rimanere senza lavoro Perché so fare davvero tantissime cose E questo deve essere il tuo obiettivo Cioè imparare Imparare Diventare una macchina E la guerra Imparare Perché più cose fare Più le persone ti pagano E più opportunità hai Poi terza cosa Sto leggendo per la terza volta Questo libro Si chiama Perennial Seller Di Ryan Holiday Non so se lo vedi Beh compratelo Perché è bello Non nemmeno mi stanno pagando Sto dicendo perché è bello Perché è estremamente bello Questo libro In pratica il concetto è Se vuoi fare Se vuoi creare qualcosa Che duri nel tempo Che ti faccia fare il grano Devi farla bene Non esiste Se tu vedi Steve Jobs Non è che Steve Jobs È diventato famoso Con Apple È ricco Perché faceva le cose a caso Tanto per farle Si metteva lì E meticolosamente Faceva le cose per bene Perché sapeva che Doveva non rimanere nel tempo Doveva fare dei capolavori E questa cosa io cerco E devi cercare anche tu Di farla Di attuarla appunto Nel quotidiano Cioè devi cercare di fare le cose per bene Non contattare le persone Così a caso Su Instagram Creati un'email Professionale Creati un sito web Crea qualcosa appunto Di professionale Spendeci i soldi Perché c'è di spendere Però in questo modo Tu sei sicuro Che stai facendo qualcosa per bene Le persone lo notano Tu lavori bene Fai le cose per bene Sei bravo Prima di tutto Trasmetti questa tua bravura Alle persone E poi le persone appunto Notano che tu ci sai fare Se non lo che ci sai fare Magari non ti fanno i complimenti Però appunto Nel loro Lo sanno Che tu appunto Sei bravo E che sai fare le cose Ovviamente Non devi avere la premura Non devi avere il pepe nel culo Per partire Perché se tu non sai fare nulla E parti pensando che sei bravo Poi fallisci Perdi i soldi E dici Ah ma questo mondo Neve non si può guadagnare online E dai tipo la colpa Che ti ha insegnato Quando in realtà È colpa tua Che sei partito Dopo un mese Che nemmeno avevi imparato Le cose come si faceva Quindi impara E fai sempre le cose per bene Perché la gente Se ne accorge Quando sei bravo E professionale Infine La quarta cosa Che c'ho scritta qua È devi farti conoscere E offrire i tuoi servizi La parte di promozione Tu sai fare qualcosa Sei bravo Ok perfetto Tu la devi marketizzare Come ogni cosa Il modo migliore È quello che ti consiglio Se te la senti Te la devi sentire Perché è qualcosa Che cambia il tuo futuro E crea una community Attorno a quello che fai Se tu vuoi fare Copyright O il designer Per esempio Ti metti lì E tutti i giorni Fai video su YouTube Oppure fai post su Instagram Oppure vai su TikTok Dove vuoi Fai podcast Blog E fai contenuti Per i designer Questa missione Di creare una community Marco Montemagno Gli ce la tira addosso Da anni Ed è vero Perché è il modo più veloce Per farti conoscere Più veloce non tanto Il modo migliore Per farti conoscere A lungo termine Ci vuole tempo Però è buono Perché prima di tutto Diventi un'autorità Quando tu sei famoso Conosciuto Diventi quasi un'autorità Prendi credibilità Perché appunto Puoi far vedere Guarda io ho 10.000 iscritti Quindi sei più rispettabile Di qualcuno che va nella community E soprattutto Poi ti si apre Un mondo di opportunità Quindi ritornando al primo punto Non metterti scuse Dicendo Ah ma non so fare video Ma non so scrivere Mi secca E poi se magari Le persone non guardano Fai Cioè tu mi metti là E fai video su YouTube Qualsiasi cosa Senza scuse Senza limiti Devi fare A manetta Per un anno Dipende un anno Fai un video al giorno Per un anno Come ho fatto io Su per giù E vedi che succede Poi risulta Ti assicuro Che arrivano Se fai le cose per bene Nel caso in cui Tu non volessi Creare una community Ti metti là Ti fai le cose per bene E contatti Cioè non so Sei un web designer E vuoi lavorare Come web designer Perfetto Ti fai una lista Di tutti Di mille siti web Store di e-commerce Che ci sono in Italia Sito web E-mail E numero di telefono Li contatti tutti E proponi il tuo servizio Mille euro Mille euro Non so 500 euro al mese 300 euro al mese Ti fai pagare E qualcosa Poi vedi super gioco Come fare un pacchetto Di servizi E in pratica Lavori come Libro professionista Come dipendente Cioè ti fai una lista Mille persone Che puoi contattare Le contatti tutte Dal primo all'ultimo Ti devono rispondere Vi e-mail Vi messaggi Tarta serie Di chiamate Affinché non ti rispondano E ti dicono di no Se non ti dicono di no Non li devi lasciare stare Ti assicuro che se sei bravo Fai vedere che sei bravo E sei professionale E contatti Mille persone Mille aziende Ti assicuro che una persona Su mille Un'azienda su mille C'è Ti pagherà E magari ti assume anche Quindi squadra Queste sono i 4 cose Che ho imparato 4 cose che ho fatto io Senza scuse Senza limiti Perché dovete essere Dei vincenti Non dovete essere Dei perdenti Sono il nuovo Tony Robbins Quindi questi di qua Non mi due sense Spero il video ti sia piaciuto Metti i piaci Iscriviti Fammi sapere nei commenti Cosa pensi Tutto questo è un baradam Di speech motivazionale E noi in caso Magari ci vediamo Se ce la faccio ancora Giovedì settimana prossima Non lo so Va bene Bye 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 Bye